Come risparmiare 1378 euro in un anno con la strategia delle 52 settimane? Molto semplicemente devi risparmiare gli euro corrispondenti alla settimana in cui sei con la tua sfida. Nella pratica che cosa significa? Che la prima settimana metterai da parte un euro, la seconda due euro, la terza tre euro, la quarta quattro euro e così via fino ad arrivare alle ultime settimane dove la cinquantesima settimana metterai da parte 50 euro, la cinquantunesima 51 euro, la cinquantaduesima 52 euro. Se vuoi imparare a risparmiare e gestire almeno i tuoi soldi seguimi o iscriviti al mio canale YouTube.